La guerra relativa al Teatro Massimo si sposta da Palermo a Roma. Adesso basta, non è più possibile chiudere bocca su uno spettacolo indecoroso che si commenta da solo. Non usa mezzi termini Leoluco Orlando in occasione dell'ennesima conferenza stampa sulla situazione del Teatro Massimo tenutasi stamane. Il primo cittadino ha reso noto di aver inviato una lettera affinché la Fondazione Teatro Massimo, della quale presidente, venga commissariata. Destinatari della missiva Lorenzo Ornaghi, ministro dei beni culturali e Salvatore Nastasi, direttore generale dello spettacolo Dal Vivo. Una sorta di ultimatum accompagnato da intenzioni precise, già annunciate. Se Ornaghi non procederà al commissariamento, Orlando intenterà un'azione legale contro il ministero dei beni culturali, però messa vigilanza sulle presunte anomalie nella gestione del Teatro Massimo. La situazione del Teatro Massimo al punto di vista gestionale della legalità è insostenibile. Io ho rappresentato al ministero, che è l'organo vigilante, tutte le ragioni di illegittimità e di spreco di denaro pubblico in questa gestione. Ho inviato relazioni dettagliate e proprio questa mattina ho inviato una lettera al ministro Ornaghi, al direttore generale dello spettacolo Anastasi, nella quale comunico che il comportamento omissivo del ministero non può più essere ignorato dal presidente della fondazione. Io provvederò a denunciare a tutte le autorità compatenti questa mancanza di osservanza dei compiti propri dell'organo di vigilanza. Il ministero della cultura non può ignorare che abbiamo un teatro massimo bloccato, che abbiamo un contrasto insanabile tra i lavoratori e il sovintendente e abbiamo un management che abusivamente si proroga per inviatacita contratti milionari. Nessuna coincidazione in vista tra Orlando e Cognata. A fare infuriare ancora di più il presidente della fondazione Teatro Massimo, e l'interessato tende a precisarlo, il non aver ricevuto alcuna risposta dal sovrintendente della stessa in merito ai contratti in scadenza. Sono stato informato, tono Orlando, a cose fatte. Cognata, nonostante il mio divieto, ha rinnovato i contratti esterni per un esborso complessivo di un milione di euro, una spesa che in questo momento certamente non è opportuna. Orlando ha infatti denunciato Cognata alla Corte dei Conti per danno erariale.